Meglio fare cento cose bene piuttosto che una male Libero di essere creativo multifunzionale Faccio un film, un libro e poi scrivo e canto questa canzone Senza porre limiti alla mia immaginazione Buonasera a tutti! E' qui nella sua terra e sta presentando appunto proprio qui il suo libro E ha girato il suo ultimo lavoro cinematografico, Ritorno al Presente, proprio nella provincia di Trediso Quindi non è vero che nessuno è profeta in patria Come vai? Hai scelto di tornare a casa e com'è stata questa esperienza? Innanzitutto tornare a casa con il sindaco di fianco, un applauso a Mario Conte E le ringrazio tantissimo per essere qui E' veramente un onore averci dal mio fianco a questa presentazione In realtà ringrazio Max perché porta in alto l'arte, la cultura, la creatività del Veneto attraverso la sua figura E credo che lui, che tra l'altro questa sera incontro personalmente e condivido anche una serata E' anche una grande fonte di ispirazione Ricordo che io, tra l'altro, dopo ne parleremo magari con più calma Io sono una persona molto schematica, che programma tutto, eccetera Però poi, cammin facendo, ho scoperto di avere un lato creativo anch'io Però bisogna uscire dal timore dei giudizi, no? E come fa il sindaco a uscire dal timore dei giudizi quando sei costantemente giudicato? Lo fai attraverso la fiducia in te stesso L'onestà, la consapevolezza, la preparazione, lo studio Tutti elementi che alla base della creatività di Max ci sono Perché Max è diventato quello che è Perché alle spalle ha lavorato tanto, no? E quindi oggi sta raccogliendo il frutto del suo talento Che però ottiene soltanto grazie al lavoro, al sacrificio, all'impegno Quindi è un personaggio straordinario, è un personaggio di cui essere orgogliosi E per me è davvero un grande onore essere qui oggi per quest'anteprima di questo libro Che non vedo l'ora di leggere Sono convinto che molte persone, compreso il sottoscritto Troveranno degli spunti molto interessanti in questo libro Ti ringrazio, veramente Ma tu hai detto anche che non sei Cioè che tu sei schematico, però c'è una parte artistica La scopriremo questa sera Perché siamo tutti curiose Sì, sì, la scopriremo In realtà l'ho scoperta per caso, no? Perché poi per scoprire la tua parte creativa dovresti avere la capacità di uscire dagli schemi E un programmatico fa fatica a uscire dagli schemi per scoprire la sua parte creativa Com'è stato tornare a casa qui in Veneto? Qualche anno fa mi dicevano Sei andato a fare un film proprio in Russia? E tra l'altro Che avevo fatto un film che presentai tempo fa Italo-Russo E con Giancarlo Giannini, Nino Frassica Abbiamo fatto una grande presentazione al Cinema Corso Dove siamo ormai di casa E da lì mi dicevano Chissà se farai qualcosa nel Veneto Ed è successo Perché poi io amo il Veneto Abito a Roma da tanti anni, molti lo sanno Però, insomma, sono cresciuto qui Ho studiato al Collegio Filippine Sono stato poi... ho fatto anche il più decimo alle medie E ho tanti amici ancora qui Poi amo il Veneto, è bello Cioè sarebbe stato bello girare Mi dicevo È arrivato un bando della regione Veneto E l'abbiamo fatto, l'abbiamo vinto Che è una società mia Che si occupa di cinema Essendo un creativo indipendente Sono riuscito, insomma, non me l'aspettavo Non era semplice Abbiamo fatto questo cortometraggio di 25 minuti Quindi non è il classico cortometraggio breve Era un lavoro abbastanza complesso Con Daniele Appoggi Attilio Fontana e Trizza Fonazier Che era stata anche Miss Veneto Qualche anno fa, l'attrice E l'abbiamo presentato al Festival di Venezia Quindi abbiamo... siamo reti Ci siamo qui con gli sponsor Che sono sempre in prima linea con noi Sonmariva Prosecco E Mara Giacomini Insomma, tanti... Luigi Garzotti Tanti altri che hanno creduto in noi Con cui abbiamo realizzato questo bellissimo progetto Che è partito da qui Da Venezia È stato presentato proprio al Festival di Venezia Ed abbiamo presentato al Cinema Corso Quindi sono felice perché questo è un progetto È un cortometraggio che parla di una donna Che esce dal coma E si ritrova nel 2022 Era un'attrice famosa E ora per essere famosi bisogna avere i followers Quindi prende in giro il mondo dei social network Che da qui siamo veramente, no? Dipendiamo ormai Non possiamo vivere senza... Anzi, dobbiamo postare Barbara subito qualcosa Cioè, noi... È vero, dobbiamo farci un selfie E quindi ho voluto ironizzare su questo Ma, insomma, anche per i giovanissimi A cui mi rivolgo soprattutto con i miei lavori Quindi ero felice di presentarlo a Venezia Girato un anno fa a Vittorio Veneto A Vittorio l'avevamo girato Voi sapete che è un detto comune Meglio fare una cosa bene che cento male E invece questo libro vuole affermare proprio il contrario Che si possono fare cento cose e bene Perché questo, fare soltanto una cosa Sarebbe poco in linea con la natura poliedrica di Marx È una persona che fa mille cose Non cento in una volta Quindi scrive, fa la regia, fa colonne sonore È una persona appunto molto molto eclettica E diciamo che proprio questa poliedricità è una delle sue caratteristiche E da qui sfatiamo proprio questo detto Per cui non una cosa è bene Ma cento è bene, giusto Max? Sì, nel senso che In questi anni mi sono cimentato nuovamente con la musica Perché mi è stato detto che non si può più tornare a fare musicista Superati i 40 anni, no? Perché io avevo scritto per Raffo tanti anni fa Non so se qualcuno se lo ricorda Avevo scritto un brano, insomma, del disco Che era il titolo del disco Poi avevo cantante, avevo provato a far Sanremo Poi mi sono stufato Cosa succede? Che poi per 15 anni ho fatto solo cinema E poi, incredibilmente, facendo un po' i corsi di Roberto Re Che è un leader indiscusso È un mental coach famoso E poi seguendo anche un po' il buddismo Quindi, insomma, facendo un grande percorso interiore Mi sono detto che non è mai tardi nella vita Ed è una cosa che magari detta così Può essere, no? È una frase fatta Però in questi 5 anni io ho accelerato tantissimo le cose E portandole avanti tutte insieme In maniera simultanea Come tante brecce a un arco Sono riuscito a raggiungere più obiettivi Di prima che facevo solo una cosa Però siccome è una cosa E ci sono proprio le prove concrete Ma veramente Perché ci sono tantissime persone Poi stanno a Roma Allora, stiamo a questo Non ti preoccupate Non ti preoccupate La frase per cui ti preoccupi subito Cioè, veramente Almeno qua non si dice Non ti preoccupa Ma lì appena arrivi Gli dicono Non ti preoccupa Cioè, davvero Quindi il sacco di tempo perso Con produttori inconcludenti E da lì facendo appunto Musica e cinema parallelamente Sono successe tante cose Anche le progranne sono All'interno dei festival E il film su Rai 1 Allo scorso anno La famiglia suo quadro Che è incredibilmente Sbarcato su Rai 1 Alle 9 e mezza Quindi è una cosa molto complicata Riuscire da indipendente Ad andare in prima serata Quasi impossibile direi E sono andati Ma non lo dico per autocelevalio Ma perché volevo poi Riassumere tutto questo In un libro E trasmettere questa esperienza Che c'è un sacco di gente Che è depressa Che insomma Gli psicologi Non li trovi più ormai È una gara Trovare un psicologo libero Allora io dico Invece da psicologo Allora leggiamoci Leggiamoci il libro Che può magari trasmettere Con un po' di entusiasmo Perché l'entusiasmo È la base di tutto Perché se manca l'entusiasmo Crolla tutto E il sindaco ce l'insegna Lui lo fa con amore Questo Insomma si vede Lo vedete Cioè comunque è importante Avere l'entusiasmo E poi io do delle ricette Dei consigli Per non abbandonare I nostri sogni I nostri obiettivi E infatti nel corso della serata Poi vedremo Come fare cento cose Farle tutte bene E diciamo che poi Nel libro È anche illuminante Come abbiamo già accennato La prefazione Di questo mental coach Molto bravo Roberto Re E anche la post-fazione Dell'attrice Daniela Poggi Che ormai è diventata La musa di Max Almodovar Esatto Infatti lui ha fatto la tesi Su Almodovar Almodovar Dolce Ma questo libro Max È dedicato a qualcuno Giusto? Sì E quindi vorrei che tu adesso Mi dicessi Primo a chi è dedicato E poi che mi leggessi Questa dedica La leggo direttamente Dedicato a mia madre Renea Rocchino Un mito Un grande esempio Mi ha insegnato Che nella vita Non è mai tardi A qualunque età E che per avere successo Bisogna seguire Le proprie sensazioni E che a volte Per fare la differenza È necessario anche Andare controcorrente Facendolo il posto Di quello che ti dicono Un saluto alla mamma Quindi questo libro È dedicato a una grande donna Che è la tua mamma E quindi Quale Non è qui Ma ci saluta A Roma E tornerà presto A 30 giorni Ma spiritualmente È qui Giusto? Sì Ci seguo Inizia Anna Con la preparazione Di Daniela Puccino Grazie Conosco Max Da qualche anno Determinato fino allo spasmo Ma senza mai calpestare l'altro La sua capacità creativa È tale Che non può chiudersi Con un unico progetto In quanto il talento di Max È multiplo nel suo desiderio Di comunicare emozioni E provocazioni Che suscitano un pensiero Una riflessione Max ama la vita Perché la vita Gli permette di esistere E di creare Per lui Il detto Quando dietro ad un sogno C'è una grande fede Tutto diventa possibile Si addice come a pochi La sua mente Crea da un incontro Da un disegno Da una voce E come possiamo chiamare Tutto ciò Se non talento? È un artista Fuori dal colo Lontano dal sistema Sa chiedere Bussare Con umiltà E di fronte alle porte Che si chiudono Non si abbatte Non si ferma Perché crede Fermamente In ciò Per cui combatte Ognuno di noi È un diamante Troppe volte Ricoperto da cose brutte Che sono le mode Le tendenze I giudizi I social network E quindi noi Lo sforzo che dobbiamo fare Sono convinto Che questo libro Ci aiuterà molto È rompere questa crosta Che ci ricopre E ci modifica Addirittura Perché il diamante Se noi Lo ricopriamo Di strati Di giudizi Di paure Diventa un qualcosa Di diverso Dall'originale Se noi Riusciamo a rompere Questa crosta È un'esperienza Come quella Che mi ha messo a nudo Cioè con tutti I miei limiti Fisici Dal mal di piedi Alla solitudine All'entusiasmo Alla gioia Di parlare con qualcuno All'emozione Di stringere una mano All'emozione Di vedere un sorriso Una risata All'emozione Di arrivare In un ostello E sentirmi L'ospite Che mancava A quella tavola All'emozione Di preparare Da mangiare Per l'ospite successivo Che arrivava È stata una cosa Straordinaria E sono tornato Diverso Perché ho capito Che dentro Questo corpo Dentro Quell'uomo Vestito in giacca Accravata Che indossa Faccia Da sindaco C'è una componente Emotiva forte Che poi è quella Che ti dà E che alimenta Il tuo entusiasmo Nell'affrontare Qualsiasi cosa Nella vita Perché è fondamentale Affrontarla Con gioia Con amore Con passione E sono convinto Che se questi Sono gli elementi Che caratterizzano Ogni nostra Esperienza Di vita Sarà fatta bene Sarà fatta bene E noi non dobbiamo Fare le cose E noi non dobbiamo Fare le cose Perché qualcun altro L'ha fatto Perché voglio Imitare quello Noi siamo noi stessi Lo dici proprio Come estrema sintesi Del libro La bellezza Di ognuno di noi Sta dentro di noi E quindi dobbiamo essere Se noi ascoltiamo Noi stessi Siamo anche Il nostro volto Original Meglio fare Certe cose Bene Piuttosto Che Non amare Libero Di essere E Grazie Ma Di funzionare Faccio Fin Di